Allora, questo è, come si può vedere, un piccolo match collection dedicato a Macross Delta Anche questo c'ha il sigillino di garanzia, tanto per dire Anche questo in realtà è utilizzato dal protagonista all'inizio E' il Nightmare Plus, che è una versione che poi viene subito abbandonata in favore dei VF31 Questo sarebbe il VF117, perché... 171 scusate, ormai sto diventando dislessico C'è scritto anche qua più grande, guardavo la scritta in inglese per essere sicuro che si chiama Nightmare Perché ormai la serie l'ho vista un sacco di tempo fa Ne ho dei ricordi altalenanti, ma comunque buoni Quindi quello che vedete qua è la mancolista, diciamo, dei pezzi Mentre qua, un po' ingannevoli, le foto promozionali Infatti, come anche i suoi fratelli, questo kit è praticamente monocolore Cosa che in realtà rende molto bene Le ali sono fisse, quindi è comunque un blocco unico Non è possibile montarlo in maniere articolate E ha un sacco di decal adesive Ovvero quelle decal sottili, ultra adesive Quindi si agganciano e non si staccano mai più Bisogna posizionarle bene Che vanno a ricoprire sia tutti i dettagli delle ali e degli alettoni Ma anche il cockpit E questo sarà da sfida di attaccarlo bene Per dare la sensazione appunto di vetro Le istruzioni sono appunto sul tappo Qua infatti viene fatto vedere Quello con, non so se lo vedete bene Le due stanghette E' il punto da cui iniziare a posizionare l'adesivo Infatti viene mostrato che va attaccato lì Così se lo posizioni bene Diciamo si riesce a Metterlo dritto Il kit in sé non è affatto male Perché comunque l'aereo non mi dispiace Ormai sono in una fase di Diciamo oltre a tutti i gumpla E ai vari model kit robotici Volevo qualcosa di diverso Questi kit costano poco Sono comunque molto performanti Richiedono un po' di rifiniture Per le panel line E qualche ritocco di colore Però sostanzialmente E' proprio bello E' molto ma molto bello Quindi ve lo consiglio Magari questo è proprio per gli appassionati Che vogliono avere tutti i VIF di questa serie Però non è affatto male Infatti è un kit davvero davvero discreto Grazie a tutti Grazie a tutti